Abbiamo aderito anche noi alla campagna Anch'io sono la protezione civile, sono dei campi scuola che vengono realizzati in tutto il territorio nazionale, in Sicilia ne sono stati realizzati alcuni in giro per le varie province, noi abbiamo aderito appunto su Trabbia dove abbiamo realizzato il nostro campo scuola con la partecipazione di 30 ragazzi e ragazze, dai 10 ai 16 anni come prevede il progetto del Dipartimento Nazionale. I ragazzi svolgeranno delle attività interne ed esterne, il progetto prevede la collaborazione con le varie forze dell'ordine, con la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, perciò andranno in visita presso le varie caserme, anche grazie alla collaborazione che hanno reso questi corpi e avranno il piacere di vedere sia i mezzi che di ascoltare, che funzioni svolgono, che anche questo è educativo nei ragazzi per cominciare a distinguere le competenze dei vari corpi.